ciao a tutti e bentrovati sul canale oggi andiamo a realizzare il primo make up con una delle palette new entry della mia make up collection e mi riferisco a e mi riferisco alla mini retro palette di natasha venona andrò a sfumare questo colore che ho appena infilzato con unghia andiamo a sfumare nella zona di transizione tra palpebra mobile e per palpebra fissa andiamo a sfumare verso l'alto con quest'altro colorino qui e poi andiamo a creare una bella cat crease con il pennello leggermente inumidito vado ad applicare lui vado a scurire di nuovo la zona superiore e vado a mettere questo anche sotto la rimacigliare inferiore adesso vado ad intensificare un po' tutto con una pastello labbra in teoria di neve cosmetics not today che è una matita marrone freddo andiamo a mettere anche il mascara e facciamo l'altro occhio ecco completato il make up occhi e adesso andiamo a rifinire un po' il resto del viso e mettiamo del rossetto vado ad utilizzare spogliami di mulac ecco qua il make up è completo io spero vi piaccia devo dire che questi colori mi piacciono veramente veramente molto perché sono molto naturali per quanto siano glitterati a parte questi due e credo che si pressino veramente a moltissimi look quindi rimanete collegati per vedere i prossimi vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video